Eccellenza, ma sono un po' sconcertato sinceramente dai pochi interventi che sono avvenuti in questo importantissimo, secondo me, dibattito. Importantissimo ringrazio innanzitutto il segretario che ha fatto una disamina su quello che è successo a San Marino che può essere tranquillamente paragonata a una sorta di continuazione delle varie azioni politiche che le commissioni d'inchiesta in questo caso avevano scoperchiato, tutte le commissioni d'inchiesta, mi viene da dire. Rimango sconcertato molto dal silenzio, perché io credo che il silenzio sia e dia soprattutto la misura delle persone. Ora non so se questo silenzio sia dovuto a una questione di ignavia, di pudore o peggio ancora di riverenza verso i nomi che sono stati citati in quel documento. Ringrazio, come dicevo, il segretario Canti, l'avvocatura che si è sempre schierata come parte civile, questo va sempre detto, a tutela dell'eccellentissima Camera. Perché chi ci perde e chi ci ha perso di fronte a tutti quei numeri enormi che fanno venire rabbia, capisco, mossoni, fanno venire rabbia. Poi bisognerebbe valutare sul perché questo è stato concesso, però fanno venire rabbia. E quindi un'avvocatura che comunque cerca di tutelare quel poco che rimane dell'eccellentissima Camera e che possa comunque rivalersi su questi nomi. Io credo che bisogna fare un passo in avanti, però prima vorrei fare un preambolo. Credo che i tre ambiti che debbano essere scientemente indipendenti gli uni dagli altri e purtroppo per una questione culturale sanmarinese, io credo che la commissione politica e il malaffare sia una questione culturale sanmarinese, perché siamo sempre stati così. È brutta da dire, però non c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista. E tutto quello che ha causato, che è scritto in queste pagine e in altre pagine, è causato da una non cultura sociale. E bisogna comunque cercare di scendere la politica dal tribunale e dai corpi intermedi. Ora, io credo che la politica ancora non sia completamente libera, perché se devo onestamente commentare ciò che è accaduto anche recentemente nei congressi, sentire e ringraziare Fiorenzo Storfi al congresso del PSD, a me è stata come una coltellata. E allora dico che la questione culturale e politica, e andando dietro anche quello che diceva il collega Vladimiro Selva, ossia una ricerca di pacificazione, non la si possa ricercare se ancora si ringraziano certe persone a un congresso di un partito. E questa è una cosa abberrante dal mio punto di vista. Perché la politica è stata usata come è stato usato il tribunale, come sono stati usati i corpi intermedi. Allora, in questo caso bisognerebbe fare, se si vuole davvero, cercare una pacificazione. Io sono il primo a voler ricercare, e lo dico con emozione, perché sono stanco sinceramente di vedere San Marino trattato in questo modo, da quelli che sono citati in questa relazione. Sono stanco di vedere che ancora qualcuno fa la riverenza a certi personaggi, quei pochi che ormai sono rimasti in territorio, che vanno tranquillamente baldanzosi, con l'occhio in alto, anziché guardare in basso, per quello che hanno causato San Marino. Selva diceva che ha trovato di cattivo gusto anche il fatto di nominare parenti affini. Beh, Selva, guardi, le rispondo tranquillamente. Io credo che il segretario abbia fatto molto bene. Le dico questo in virtù dell'esperienza del Consiglio dei dodici. Ci sono vecchi e nuovi membri del Consiglio dei dodici, dove abbiamo visto Marino Grandoni e famiglia, soprattutto Marino Grandoni è l'ex moglie. Poi sarebbe anche da fare una parentesi su come hanno divorziato sia Grandoni sia Guidi, quasi in maniera contemporanea, ma vabbè, lasciamo stare. Il problema è che diventa un problema politico nel momento in cui ci si accorge che Marino Grandoni, in questo caso, si voleva sfogliare dei propri beni per lasciarli alla famiglia. E questo diventa un problema politico, che la politica deve affrontare. E il Consiglio dei dodici ha affrontato coraggiosamente, perché ha bloccato tutte le pratiche in attesa che ci siano le sentenze definitive. Ma credo che sia il minimo che l'istituzione possa fare in questo caso. Quindi, e non è pubblico ludibrio, è una questione proprio che sono cose accadute all'interno delle istituzioni, sono arrivate pratiche all'interno delle istituzioni. E ancora oggi qualcuno si sorprende che abbiano provato fino alla fine a spogliarsi dei beni, non per darli alla comunità, ma per tenerseli sostanzialmente. Una cosa è certa, queste persone citate anche dal conto Massini in poi, hanno tolto il futuro alle nuove generazioni, non alla mia, alle nuove generazioni. E tutti quelli che dicono che poi sono conseguenti anche gli atti politici, che può essere il finanziamento, cioè non sta in piedi, perché se c'era una vera cultura politica nell'esiliare certi personaggi, e ripeto, negli anni 90-2000, cane non mordeva cane, cane non mordeva cane, era la politica, era il minimo comune multiplo o denominatore in questo caso. Cane non morde cane. Mi fai fare una cosa, non ti rompo le scatole, io ne faccio un'altra, non mi rompi le scatole, a discapito della collettività. Quindi la mia esortazione a Canti e al governo è quella di continuare, continuare a salvaguardare la tutela dello Stato, continuare, e non è un'ingerenza politica, la politica ha il dovere di fare le leggi, poi le leggi devono essere applicate, chiedo il raddoppio, eccellenza. Va bene, benissimo, mi faccia pure. La politica deve legiferare e deve mettere nelle condizioni tutti di avere la stessa dignità di giustizia. Poi abbiamo visto, ed è la storia che lo dice, lo dice la storia delle commissioni di inchiesta, anche di Fincapital, ripeto, la relazione finale di Fincapital era lo spaccato esatto di quello che era San Marino. e il problema è che per quella cultura malata che la politica ha avuto, ma la politica ce l'ha, perché noi non siamo altro che i rappresentanti della cittadinanza. E se tu hai una cultura bacata, la trasporti, gioco forza, nei giochi di politica, nei giochi di potere. E la relazione Fincapital è un chiaro evidente, forse non ricordate cosa storicamente causò quella relazione. Minacce ai membri di quella commissione. Noi non eravamo in commissione, non eravamo neanche in Parlamento, ma c'era un minacce ai membri della commissione di inchiesta Fincapital. E' lì che si evidenzia tutto. Quindi continui. E' brutto poi fare il mercimonio sul dire che bisogna recuperare i soldi. Ha una parte importante, è evidente per, scusate la ripetizione, per evidenti ragioni. Ma qui non si deve solo recuperare i soldi, il mal tolto. Si deve recuperare una dignità di nazione. Di quei sanmarinesi che comunque con queste persone non hanno avuto nulla che spartire. Perché il futuro, lo abbiamo bagattato, passatemi il termine, per le nuove generazioni, ma ci siamo noi che ci siamo diventati autolesionisti da questo punto di vista. Quindi la pecunia va recuperata nel più breve tempo possibile, ovviamente garantendo tutti i gradi di giudizio. E questo è un punto saldo. Ma è la dignità di sentirsi sanmarinesi, di non essere continuamente tacciati come quelli che fanno le cose di nascosto. Perché questo è il mainstream che passa fuori ancora oggi se passiamo il confine di Stato. La collega Carlotta Andruccioli che da ieri mi è seduta a fianco dice che teme che non sia finita. Io condivido estremamente il suo pensiero anche perché ci sono due giustizie. C'è la giustizia dell'aula dei tribunali che si può commentare, si può essere d'accordo sulle sentenze o in disaccordo. Ma c'è una giustizia morale. C'è una giustizia morale perché i nomi e cognomi li sappiamo tutti ma non si possono portare certi personaggi su un palmo di mano. C'è una giustizia morale che dovrebbe avere invece una caduta sulla cittadinanza chiara. E anche in questo caso non si tratta di pubblico ludibrio. Si tratta di riprendersi la dignità per poche persone sanmarinesi che hanno tolto il futuro alle nuove generazioni. E mi viene da dire visto che l'ho detto è davvero con fatica però io credo che solo gli stolti non possono cambiare idea. Con fatica io personalmente Matteo Zeppa sono disposto anche a cercare una pacificazione. Io non credo che ci possa essere una pacificazione perché la cultura politica è sempre quella torna sempre la politica in mezzo perché è quella che tira i fili che diceva il collega Gian Nicola i pupari e le marionette ci sono ci sono sempre stati è inutile che ci scandalizziamo di dover dire qui chi fare i nomi i nomi si sanno i nomi si incontrano nei bar si incontrano in giro per strada sappiamo benissimo chi sono il problema è che ci soneranno anche da quel punto di vista nuove generazioni che sono cresciute con quell'input a livello politico e di socialità che tenteranno in qualche maniera di seguire le orme di chi le ha tracciati quindi io non credo che e sarebbe un bel messaggio dire lo Stato siamo noi non sono queste persone qua non sono queste persone qua lo Stato questo è l'antistato Mussone ha ricordato benissimo come avevo fatto io anche nello scorso consiglio grande generale nell'ultima sessione dell'ordine del giorno sul colpo di Stato quando noi abbiamo scritto quel comunicato sapevamo benissimo non avevamo l'idea della portanza che stava avvenendo a San Marino ma sapevamo benissimo che si trattava di un colpo di Stato e questo è in dubbio è in dubbio perché tutti i procedimenti scritti in questi fogli che non sono fogli leggeri sono fogli estremamente pesanti e che ribadisco forse dovevano avere un contorno anche del congresso di Stato a supporto adesso ci sono i due segretari di Stato ma il congresso di Stato era assente sostanzialmente in questo dibattito che è un dibattito che è di un'importanza strategica se non altro per cominciare a parlare dei nostri limiti sia come classe politica che come cittadini quindi io credo che il segretario Canti abbia la necessità di sentirsi supportato a livello legislativo e a livello politico su quello che deve deve fare lo Stato sia salvaguardare se stesso e perseguire chi invece va contro il diritto semplice di chi appunto va contro lo Stato e altro non c'è da dire auspicando che ci sia una giustizia reale credo che però sia il caso nel 2024 che quella giustizia morale che dicevo poche anzi ossia che i cittadini hanno in primis di dover attuare ossia quella di sapere quali sono sapere avere la volontà di leggere sempre la Carlotta diceva di rileggere ogni tanto le risultanze delle commissioni d'inchiesta perché quella è una parte della nostra storia che capisco non faccia piacere ma c'è stata e qualcuno come politica e soprattutto come cittadini ha permesso che ciò accadesse quindi io mi auguro che l'eccellentissima Camera e l'Avvocatura che sta facendo un lavoro immane sovrumano per le dimensioni anche del nostro Tribunale possa al più presto dare dignità in un ambito o nell'altro ridare dignità anche a una classe politica che è stata zerata da questo punto di vista poi c'è anche qui chi viene qua a dire la politica come è che è stato detto la questione morale io credo che la moralità abbia un peso anche dalle parole di chi le proferisce e buttarla sempre in cacciara sul fatto di chi ha fatto o non ha fatto in quest'Aula è brutto e non evolversi come pensiero nel senso di cercare di capire anche le problematiche che sono scaturite in questi anni in Aula e parlare semplicemente di questione morale come parlare di una partita di calcio beh non credo che abbia la stessa portanza quindi segretario a mio nome personale c'è un ringraziamento enorme enorme mi auguro che insomma tutto vada per il meglio sapendo benissimo che San Marino per la cultura sociale che ha ha molti problemi affinché qualcuno venga effettivamente perseguito grazie